Ha saputo trasformare il dolore in capacità di reagire e di migliorare le cose. Robert Gallo lo fa da sempre e lo continua a fare. Famoso in tutto il mondo per aver scoperto tra le altre cose nel 1982 l'origine retrovirale dell'AIDS e oggi insegnito del premio internazionale Magna Grecia. Cosa provo a essere qui? Come ho cercato di dire a qualcun altro. Direi che è come sentirsi un po' in famiglia. È un po' un riconoscimento anche per la mia famiglia, qualcosa di particolare, di speciale. Perché lei ha origini italiane. Cosa conserva di queste origini? L'Unione? La madre di mio padre veniva da un paesino della Calabria, proprio. E la famiglia di mia madre era originaria della Puglia. Quindi la Calabria, la Puglia e un quarto di Piemonte. Grazie.